Nonna, nonna, cosa facciamo di bello oggi? Voglio fare qualcosa di emozionante, di eccezionale! Andiamo alla New Reverse a vedere i dinosauri! Ma certo, Bernie! Fermi tutti! Oggi per voi ho in mente qualcosa di emozionantissimo! Oh wow, che cosa, mamma? Ho deciso di iniziare la mia carriera di arredatrice! Oh, Skye, si è trovata un lavoro! No, mi sto preparando mentalmente ad avere un lavoro, perciò io oggi arrederò una casa dei sogni, la casa di Barbie! Kai, ti sei rincoglionita, poveretta, che cacata! Dov'è questa casa che intendi arredare? Nel mio cellulare! Che cacata colossale! Mi volete supportare o no nel mio lavoro di arredatrice? Questo è il mio portfoglio! Se farò delle case bellissime, verrò notata e magari qualcuno mi darà lavoro! Perciò oggi noi creiamo la casa di Barbie! Sì, mammina, vai così! Adoro Barbie! Posso essere Barbie! Guardate, quest'app che ho sul cellulare è fantastica! Mi permette di scegliere varie casette! E questa è la casa da sogno di Barbie! Dove la mettiamo qui? Un po' più grande, no? Occupa tutto lo spazio! Megalomane! Cosa vuol dire, megalomane? Ah, guardate, è tutto rosa! Oh, quante stanze! Perbacco! Ci vorrà una vita ad arredare! Non volevo lavorare così tanto! Ma qui siamo al secondo piano! Vorrei vedere il piano terra! Come facciamo ad essere già al secondo piano? Wow, questa è la scalinata che porta di sopra! Oh, c'è una porticina piccolina, guardate! Giardino! Che bello! Un gazebo romantico! Di qua cosa c'è? Niente, è un piccolo giardinetto, una porta trasparente! Il secondo piano l'abbiamo visto, andiamo al terzo! Oh, wow, Pink! Una piscina con queste scale! Ma è pazzesca, da urlo! Sky, davvero vuoi fare un lavoro del genere? Ti rendi conto che è una casa immaginaria che non esiste? Ce l'hai nel cellulare? Stai facendo una cosa inutile, Sky! Mamma, stai zitta! Grazie per il tuo solito supporto! Allora, questo è l'ingresso! Quindi, vediamo un po'! Oh, guardate, i letti di Barbie! Ma non spoileriamoci il pezzo forte! Che cosa si mette in ingresso? Se non lo sai tu, mamma, in ingresso metti un divano! Oh, giusto! Potrei mettere un divano! Kai, che kitsch! Che kitsch! Kitsch! Che kitscheria! Fa caccare! No, mamma! Allora questo, Rosa! Con questo! Già meglio! Vediamo se c'è un tavolino piccolino... Per prendere il tè o il caffè con le amiche! Già me la vedo, Barbie, a discutere con le amiche di shopping! Eh, non hanno un cavolo da fare quelle! Allora, tavolini, tavolini, tavolini... Questo è il legno? Mamma, che c'è esso! Non vedi che è tutto chic e quel tavolo di legno è orrendo? Oh, un bancone! Via, è per la cucina! E questo tavolino luminoso? Via! Non lo so, non ci sono tavolini da mettere per bere il tè o il caffè! Questo! È perfetto, mamma! Solo non so dove metterlo qui! Vediamo delle tazze, le tazze da tè... Allora, tazze da tè in stile Barbie... No, qui c'è solo del cibo... Oh, che bel cibo! Sky, non è vero! Lo capisci che è un'applicazione? Mamma, stai zitta! Non rovinare la magia! Guarda, tutte le posate di Barbie! C'è il piattino col gattino! Guardate le tazze! Sto impazzendo, impazzendo! Sky, io penso che tu non andrai mai a lavorare! Ti metterai a fare questi giochini! Già lo so, starai qui tutto il giorno a giocare, altro che lavorare! Con la teiera e versiamo il tè! È delizioso! E qui dietro nascondiamo una bottiglia di vino! Ah, ah, Barbie se la beve ubriacona Barbie! Mamma, stai zitta! Potrebbe denunciarti! Sì, ritiro era un'opinione personale! Ecco qua, il drink di Barbie! Ma nascondilo meglio là dietro! Si può? Guarda, fai così! Mettilo dietro perché non va! Oh, che cacata! Metti una pianta, Sky! Ah, ma sto arredando io! Vuoi intrometterti anche nel mio arredamento? Eh, Sky! Senti, adesso mi ha preso questo gioco! Guarda quant'è! C'è la macchina! La voglio io! Voglio anche il motorino! Il motorino unicorno! Mamma, adesso chi è che fa cose inutili? Guarda qua, ti sei emozionata per niente! E li buzzo via! Crudele, Sky! Crudele! Un giorno avrò quella macchina! Vediamo, allora, mettiamo delle piantine! Guardate le rose! Oh mio Dio, ma questo mondo è favoloso! Perché non posso viverci io qui? Perché, mamma, non hai abbastanza soldi da potertelo permettere! Neanche lavori! No, grazie tante! Fa cacare, Sky! Secondo me dovresti togliere questi, vai via, così, e mettere i fiori qua, al centro! Eh sì, forse hai ragione, mamma! Vabbè, ti darò ascolto per una volta! E qui questa pianta, perché non sta? Oh, così! Brava, Barbie ubriacona! Con la bottiglia ben nascosta! Vediamo un po' se ci sono dei quadri da appendere! Allora, qui vedo una piscina! Oh, particolari come quadri! Oh, che carini! Fanno tutti cacare! Non perdere tempo! Sì, in effetti ti devo dare ragione, mamma! Allora, tappeti! Beh, non c'è granché! Sky hai un gusto un po' kitsch? O sbaglio? Come fa a piacerti? Basta, Sky! Allora, questo mamma, non puoi dire di no! Certo, questo è super chic! Allora, qui abbiamo l'angolo divanetto e bevute solitarie. Qua c'è l'ascensore, qui abbiamo una stanza e qui un'altra stanza. Ehm, potremmo fare la cucina qui, che ne dite? Con queste mattonelle mi pare proprio adatto alla cucina. Non vorrei fare il bagno perché siamo proprio all'ingresso. Giusto, Sky, devi fare un bagno perché come si facciano a cacare? Ce l'hanno un vasino? Barbie ce l'ha il vasino? Non lo so, mamma, devo controllare. Ma non penso che Barbie faccia i suoi bisogni in un vasino. Li fa qui in un water di gomma! È gonfiabile! Che caccata! Allora, devo andare su cucina. Oh, questa è la cucina di Barbie! È rosa! Con le maniglie a cuoricino, non ci posso credere! Poi? Oh, guardate, per Barbie invalida! La setia con l'imbottitura a pelosetta rosa fucsia! Adoro! Ai, guarda che meraviglia! Che meraviglia! Dovremmo trovare un negozio che faccia queste cose per la nostra casa! Io adoro il rosa! Mi sento un po' Barbie, che ne dici? Eh, sì, nonna, sei Barbie! Barbie scorreggiona! Barbie, cosa hai detto? Basta, mi deconcentrate! Allora, tavoli! Come ho detto, non ci sono bei tavoli! E cos'è questo via? Perché non hanno fatto dei bei tavoli? Scusatemi tanto, non capisco! Hanno fatto solo un bancone! Kai, ovvio, hai mai visto una Barbie mangiare? Barbie non mangia, non ha bisogno di un tavolo! Ah, è vero, è vero, non mangia! Come fa a cacare se non mangia? Cosa cacca? Aria? In quel caso, scoreggia, allora! Ah, giusto! Quindi Barbie scoreggia seduta su un water? È probabile, Sky! Non ho mai visto Barbie cacare! Secondo me, scoreggia e basta! Ah, e scoreggia nel water! Quindi è un water per i peti! Volete smetterla di parlare di queste cose disgustose, per favore? È alquanto ridicola questa conversazione! Hai ragione, Benny! Allora, il frigo! Non lo so, c'è quella finestra che mi disturba un pochino messa lì così! Vabbè, lasciamo così! Ehm, poi... Vabbè, un tavolino io ce lo metterei? No, Barbie non mangia! Come te lo devo dire? Mettigli questo! Il bancone! Ma, e dove glielo metto? Qui? Dai, fai sul serio? Non so dove metterlo, perché non vorrei che non ci fosse abbastanza spazio! Forse il frigo va qui e lì allora è tutto vuoto! Oh no, la mamma ha un blocco d'arredamento! Il blocco dell'arredatore, si dice così? Penso proprio di sì, mi è venuto un blocco! Un blocco creativo! Vai, ti aiuto io! Vediamo se ci sono armadi credenze! Oh, mamma! Che meraviglia! L'hai scoperto! Hai visto? Però non vanno bene per la cucina! Oh, guarda qua i tavoli! Questi tavolini sono chic, Sky! Guarda qua! Ecco qua! Facciamo così! Et voilà! Barbie ubriacona! È meraviglioso, mamma! Questo tavolino è più bello di questo o no? Secondo me sì! Ecco qua! Abbiamo migliorato la situazione in un batter d'occhio! Sì, ma la cucina è ancora un cesso di cucina! Eh, Sky, l'hai creata tu così! Adesso devo rimediare, allora! Il frigo non mi piace per niente! Per niente in questa posizione! Allora, mettiamolo qui! La cucina è un po' staccata! Diamo aria a questa cucina! Eh, la nonna se ne intende di aria! Stai zitto, Bernie! Allora, qua abbiamo il bancone che fa proprio cacare! Come vi ho detto! Sembra non stare bene da nessuna parte! Vabbè! Allora, piante! Piante di Barbie! Vediamo un po' cosa possiamo mettere! Oh, che cosa oscena! Un tulipano gigante! Beh, Barbie è strana forte! Quindi glielo metterei! Mamma, ma è carinissimo! E guarda questa! Che cesso di pianta! Non ti piacerà mica una cosa del genere, Sky? Mamma, comunque mi stai rubando il lavoro di arredatrice! Continuo io! Allora, degli armadietti sopra alla cucina! Dove trovo gli armadietti? Oh, sono questi! Perché li hanno fatti bianchi e non rosa? Direi che di rosa ce n'è abbastanza! Sì, direi anch'io! Allora, le sedie per sedersi al bancone... Quali mettiamo? Sono una più bella dell'altra! Guardala, guardala! Questa? Sì, guarda che cesso di sedia! A forma di cuore! Mamma, ma è una cosa stupenda! Non è un cesso di sedia! Io è che arreda la casa con delle sedie a forma di cuore, Sky! Beh, ho visto di peggio! E comunque, stiamo parlando di Barbie! Te lo ricordo! E Ken vive in questa casa rosa con Barbie? Penso di sì! Ken è gay! No, Bernie, non penso! Forse sì! Non lo so se si è dichiarato! Bernie! Che domande fai? Ma Ken non amava Barbie! Mamma, non lo so! E comunque non è questo il punto! Stiamo solo arredando! Non discutendo se Ken è gay oppure no! Sono affari suoi! Allora, qui c'è uno spazio vuoto! Cosa mettiamo in questo angolino? Mamma, mamma! Potresti metterci un bel cagnolino! Il posto per il cagnolino! No, Bernie, non possiamo prendere animali a Barbie! È lei che deciderà che animali avere! Ma secondo me avrà degli animali! Quindi hai avuto una buona idea! Le mettiamo! Oh, c'è anche il pianoforte! Non avevo idea di tutte queste cose! Oh, che meraviglia! Questa è la macchina del caffè? Il tostapane? Questo che cos'è? Non ditemi che è la lavatrice! La mettiamo in cucina? No, Sky! La lavatrice in cucina no! Ma qualcuno la mette in cucina però! Sì, ma Barbie non la mette in cucina la lavatrice! Ci vorrebbe una specie di tavolino? Oh, delle mensole! Che dite? Mettiamo delle mensole? Sì, direi di mettere delle mensole! Ovviamente nello stile di Barbie! Quindi queste qui? Un po' più in alto! Così, così ci mettiamo il tostapane! Che non sta! Ah, sì! Eccolo lì! No! E no! Ok, perfetto! Stanno entrambi lì! Fa un po' cacare! Ma vabbè! Lo so, mamma! Ma non so che cos'altro mettere! Anche perché lì sotto voglio andare a mettere le ciotole per gli animali! Le avevo viste prima, quindi... Ecco qui! La ciotolina per il gatto! Altra ciotola per il gatto! Acqua per il gatto! Questa è la porticina per il gatto! C'è qualcos'altro per il gatto! Oh, guardate, è delizioso! Secondo me Barbie metterebbe anche un tappetino! Per il gatto, dici? Certo, Barbie glielo metterebbe! Questo però è troppo ingombrante! Mettiamo solo crocchette e acqua! Così! Ok, un tappetino per il gatto! Questo! Oh, non ci sta! Peccato! Ok, sposta la cucina! Così! Sposta tutto quanto! Fai così, sposti, metti e metti! Non stanno sopra il tappeto? Sì! C'è un po' di difficoltà! Ecco qua! Siamo così! Mamma, questa casa sta diventando proprio una casa da sogno! La casa da sogno di Barbie! Però questi forse è meglio metterli qui sopra! Che dite? Quella mensola non mi convince tanto! Forse dovevi mettere un armadietto! No, questo è proprio un armadio! Guarda qua! Questo no! Eh! Ci sta! Ci sta qua! Per mettere le cose allora, Sky, bisogna rivoluzionare la cucina! Fai così! Metti l'armadio! Ok, tipo credenza! Ma certo! La pianta non so se ci sta ancora a questo punto! Boh, vedremo! Sposta la cucina qua! Mamma, comunque devo fare io, ho capito! Allora, sposto la cucina, sposto gli armadietti e la credenza che però sarebbe meglio attaccata al muro perché lì c'è la finestra e altrimenti la copre! Quindi, ripre... Oh, che bene che sta lì il pulipano gigante! Lo lascerei lì! Qui metterei le cosette dei micetti, ecco qua! E poi andiamo a mettere queste cose che non ci stanno, quindi è stato del tutto inutile! Ah, che cacata! Una mensola dove non puoi mettere niente! E questo ci sta, vedi, è perché questo oggetto è troppo grande, uffa! Allora lo tengo qui! Sì, tienilo lì, Sky, ti conviene! Se no, vai avanti per le lunghe! Metti una pianta là, in quello spazio vuoto! Oh, sposto la cucina, così, e riempio meglio tutto! Io direi che è perfetta come casa! Beh, non c'è male, certo! Molto carina, deliziosa! Bene, direi che la cucina è fatta, volete aggiungere qualche piantina o ci pensiamo dopo? Non so, sono un po' indecisa! Sky, procediamo, ci pensiamo dopo alle decorazioni! Ok, allora abbiamo cucina, il soggiorno in realtà è più... Un angolo di bevute! E qui che cosa facciamo? Ci starebbe bene un tavolo da pranzo? Abbiamo detto che Barbie non mangia! Sì, ma questa stanza è vuota, almeno per finta! Dobbiamo mettere un tavolo! Farà finta di mangiare, cosa ti devo dire? Allora, ah già, i tavoli sono brutti! Quasi quasi era meglio ascoltarti e non mettere nessun tavolo! Questo è piccolo! Oh, questo è ancora più piccolo! Sono bruttissimi! Le sedie, invece, sono molto carine! Dai, retta a me, Sky, non mettere nessun tavolo! Rovinano tutta la casa, quei tavoli lì osceni! Non so, mamma, ma dovrà pur far finta di mangiare! Sono un po' indecisa! Qui c'è il bancone, ma... Questo tavolino? Questo è piccolo? Ok, direi di lasciare vuota questa stanza! Ottimo lavoro, mamma! Sei proprio un'esperta arredatrice, eh! Ok, secondo piano, io direi di fare le camere da letto! Qui ovviamente spazio vuoto, perché ci sono le scale! E qui, invece, faremo due camere! Mmm, mentre... Al piano superiore, che cosa c'era? Non mi ricordo più! Ho già un'altra stanza con piscina! Sono un po' indecisa! Non so, cosa fare? Mi sento bloccata! Kai, da qua, prendo io in mano la situazione, se no facciamo notte! Allora, qui faccio una stanza! Che vi piaccia o no, farò così, metto il letto! Allora, questa stanza l'ho pensata come stanza per teenager! Ecco qua, guardate! Mmm, devo dire che mi piace! Mamma, ma non viene un po' troppo dark come camera? Cos'è questo dark? E poi hai messo i mobili un po' a casaccio, insomma! Sto lavorando, Sky, non disturbare! Allora, dov'è una scrivania? Andiamo avanti tutta la vita a cercare scrivanie! L'avevo vista, adesso non c'è più! Andrò avanti all'infinito! Eccola qua! Una bella scrivania coi cuori! C'è troppa roba qua in mezzo! Te l'ho detto, mamma, che fa cacare! Guarda qua, questo lo metto qui! Il letto! E starebbe bene così! Guarda! No, fa proprio cacare! Ecco qua! Ridotto al minimo tutto quanto! E poi mettiamo l'armadio! Mamma, a parte che stai mettendo gli armadi in terrazza, non so se ti sei accorta! Stanno anche volando! I mobili fluttuano nell'aria! Ma è colpa dell'applicazione, Sky! Metterei dei mobili per tenere i costumi! Questo fa cacare! Perché fluttuano? Ah, ecco qua! Mettiamolo così! Hai visto? Perfetto! Io toglierei questo! E qui metterei dei puff o comunque delle sedie per sedersi! Perché se ci si vuole cambiare, magari serviranno delle sedie! Mamma, ma poi ci andiamo a vivere lì per piacere! Voglio andare a vivere nella casa di Barbie! Perfetto che no, Bernie! Come ti viene in mente? Allora, come sedie? Guardate questa! Non è un amore di sedia? Ecco qui! Guardate! Ancora meglio! A bordo piscina magari questa! Non c'è uno stereo o qualcosa del genere? Oh, mamma, cosa c'è? Vuoi creare un DJ set? Per Belinda! Non dirmi che stai facendo la casa di Belinda! No! Chi te l'ha detto, Bernie? Come fai a dire una cosa del genere? Mi hai messo in agitazione! Se nonna Bernarda viene a scoprirlo! Cosa, Sky, è vero? Questa è la casa per Belinda? Sei impazzita? Mamma, è il mio primo lavoro! Non volevo rifiutarlo! Ok, so che la nonna Bernarda ci starà male, ma... Cassandra mi ha chiesto di farle una villa su misura e lei pensa di essere Barbie! Una nuova Barbie rifatta! Che diavoleria! E non potevo rifiutare, perciò questa casa è per lei! E prenderò soldi al mio primo lavoro da arredatrice! Beh, meno male, Sky, che fai taccare! Ben gli sta, Cassandra! Non oserai mettergli la macchina, eh? Mamma, tutto il necessario mi paga! Oh, fate silenzio, adesso basta, non vi ascolto più! Perché io devo rendere questa villa favolosa per Cassandra e Belinda! Mi spiace per la bisnonna Bernarda, ma Belinda ha deciso così! Non tornerà a vivere con lei! Belinda vuole la ricchezza! Questo è quanto! Allora, come DJ set, Belinda dovrà accontentarsi di queste casse! Et voilà! E direi che non è neanche male come soluzione, anzi, mi piace tantissimo! Sky, mia madre ti ucciderà! Ucciderà anche me se sa che ti ho aiutata o no! Mamma, nessuno andrà a dirglielo alla bisnonna Bernarda! Guardate questo lampadario! Oh mio Dio, sono tutti favolosi! Pinky in Dreamhouse, ma non ci sta! Oh, guardate! Con le piume! Un semaforo! Le lucine! Sky, muoviti prima che ci scopra! Bernarda! Mamma, mi piace troppo questo lavoro! Non posso fare le cose in fretta! Ok, mettiamo una sedia per la scrivania! Io la scrivania la sposto lì! Poi, metto questo tappeto fluttuante! Ah no, ecco, si è assestato! Dovrei fare così, per guadagnare un po' di spazio! Ok, cosa hai fatto? Hai buttato via l'unica cosa che ho messo? Sì, mamma, ero scena! Allora, ricordiamoci che Belinda ama la ricchezza, la musica ed è una medusa sirena! Tutte cose di cui non sto tenendo conto! Nel creare la casa, vabbè, a parte l'amore per la musica, ma... Più che altro mi sto concentrando sulle richieste di Cassandra! Mi pare giusto, visto che è lei che mi paga! Ok, puff, rosa! Non sarà un po' too much, too much rosa? Ma no, mamma! E poi il rosa è un colore che abbiamo naturalmente di famiglia! Nei nostri capelli scorre il pigmento rosa! Ops, ho sbagliato! Ok, allora lì, cosa mettiamo? Secondo me è una postazione trucco, perché potrebbe anche decidere di truccarsi, chi lo sa! Allora, c'è un piccolo armadietto? Tu qui, potrei metterglielo? Se ci sta, lo mettiamo qui? Fa cacare! Sì, è vero, mamma, è troppo sbilanciato! No, lo buttiamo! E mettiamo semplicemente questo, con magari una mensolina, che ne dite? Dico che ti devi muovere, lascia perdere! Prima che arrivi, Bernarda! Ah, mamma, allora no, farei così, qui appendiamo i vestiti. Ma perché fluttuano, fluttuano queste cose? Sky, dacci un taglio! Ora, la sedia... Potremmo mettere un'altalena direttamente e Belinda si trucca, dondolandosi. Se rischia di farsi male, si fica i trucchi dentro gli occhi, Sky, ma che idee ti vengono? Mettigliela in piscina, così si tuffa nel DJ set! Mamma, che idea strepitosa! Ma non ci sta, non vedi che c'è il cielo? Peccato, era una bella idea. E quindi ritorniamo con la mia idea. Mettiamo l'altalena qui, qualche aggeggio, qualche decorazione. Allora, qui intanto mettiamo i trucchi. Ah, ma non sono trucchi! Questo è un giradischi! Oh beh, glielo mettiamo lì o qui? No, glielo mettiamo lì, così lì riesce a comporre la sua musica. Con un pc favoloso! Le diamo anche un cellulare? Che hai troppe cose, troppe cose a Belinda! È nata da pochi giorni e dà già una villa! Belinda, ha tutte le fortune, si è scelta la mamma, si è scelta la casa! Guardate, guardate questi salvagenti! Ditemi che non li invidiate! Certo mamma, io glielo invidio tantissimo! E fate bene, sono favolosi! Guardate quanti oggettini che voi non avrete mai! E dico mai! Oh, ci sono anche le bamboline, mamma! Già, e non sono per te! Mamma, che crudeltà! Ah, mettiamo questa Belinda assolutamente! Mmm, vediamo, le metterei anche uno specchio! Oh, guardate! Un portaabiti mignon, in miniatura! Per i suoi costumi, dei concerti! Ehi, ma non riesco più a muoverlo! Ok, e togliamo questa cacata! Sì, facciamo così! Soldi? In fondo è ricca, perché no? Una candela? Mettiamola qui sul comodino? E direi che la sua camera è perfetta! Mamma, manca qualche poster! Questa è la camera di una vecchia, non di una teenager! Belinda è una neonata! Comunque, ecco qua, sei contento? Con le foto, ecco qua! Poi, poster, volevi poster? E qua fluttuano, quindi non si attaccano! Li togliamo! Ecco fatto! Ti va bene? Io direi di sì! È perfetta! E poi che si arrangi, no? Ad arredarla meglio! Io faccio solo le cose un po' di base! Complimenti, mamma! Sei proprio la arredatrice che tutti vorrebbero! Allora, la camera più importante! Quella di Cassandra! Cassandra, la padrona di tutto ciò! Mamma mia, Sky che non ti senta la povera Bernarda! Ma è la verità! Con lei che possiede tutti i soldi e che mi paga, quindi deve essere una principessa! La camera darà direttamente sul terrazzo! Dopodiché in camera non voglio cianfrusaglie! Avrà giusto cose inutili! Ma che fanno chic e atmosfera! Perché così merita Barbie! Vi ricordo che Cassandra pensa di essere la nuova Barbie! Certo, una Barbie che fa cacare! Complimenti! Beh, nonna, tu sei la Barbie scoreggiona! E Cassandra è la Barbie rifatta! Zitto, Bernie! Potrebbe sentirti! Cosa? Cassandra è qui? Oh no, cielo! Che spavento! Non farmi spaventare! Comunque, queste pareti color salmone non mi piacciono per niente! Sembrano i colori di Belinda! Vabbè, comunque mi fanno cacare! Quindi... Oh, tutto con i diamanti! Cassandra li adorerà, adorerà! Già lo so! Vediamo il pavimento! Oh, magnifico! Cassandra adorerà tutto questo! Sky, sembra quasi che ti piaccia Cassandra! Mi piace perché mi paga molto! Ed è la prima persona che mi dà un lavoro vero! Perciò certo che mi piace! Allora, questi fiorellini io li amo! Però non stanno sul tavolino! Quindi fanno cacare! Allora, mettiamole... Un drink? Ecco chi è l'ubriacona Cassandra! Me l'ho sentivo io! Abbiamo fatto bene a nasconderle il vino dietro al divano! Ubriacona che non è altro! Mamma, è un drink analcolico ovviamente! Sì, certo! Come i drink di Rory! Tutti hanno alcolici! Vabbè, metterei delle luci! Allora, come luci? Che dite? Queste? A meno che io non metta queste! Mi fanno ancora più principessa! Sì, sì, sì! Le mettiamo queste! Oh, che sbadata! E il tappeto! Come può mancare un tappeto! Mamma, no! Rovina tutto! Questo? Oh, sì! È davvero magnifico! Mettile una bottiglia di vino sotto il comodino! Dite! Farò una cosa gradita! Certo, ormai lo sappiamo tutti! Cassandra l'ubriacona! Farà concorrenza a Rory! Allora, dove sono le bottiglie da bere? Dunque, uh, questo! Avete visto che delizia? Ci sono anche le torte? Sì, ma guarda, secondo me Cassandra non mangia! Uh, le tende! Non vorrei che i vicini la spiassero! Penso morirebbero sul colpo a vedere tutta quella plastica cessa! Ecco qua, guardate! Qualche quadro? Non c'è un quadro chic di classe? Poca roba, Sky! Poca roba come quadri, eh? Beh, metterei... Sembra la stanza di mia nonna! Oh, mamma, la tua nonna! Non dirmi che hai una nonna ancora in vita! E che ce la ritroveremo qui! Ma per l'amor del cielo, Sky, basta! Stai zitta! Metti una lucetta su quel comodino e basta! Ok, una lucetta... Ma non ce ne sono di belle! C'è un orsetto! Fa cacare, lascia stare, va! Lascia stare, per l'amor del cielo! Vattene da questa stanza! Ok, ma lo vogliamo mettere un tavolino qui? Un tavolino da esterni? Quanto ti paga, Cassandra, eh? Per tutta questa rottura? Non è una rottura, mamma! È un piacere! Sì, come no! Tu che lavori! Deve averti pagato molto bene! Profumatamente! Beh, adesso mettiamo le sedie! Ma direi che ne basta solo una! In fondo Cassandra non ha ospiti! Preferisce fare colazione in terrazzo da sola! E Angelo? Ah, Cassandra ha detto che non gli interessa! Di badare solo alle sue esigenze! Angelo si adatta! Vabbè, poveretto! Con tutto quel rosa! Ok, qui farei il bagno! Finalmente, mamma! La parte più importante di tutta la casa la fai per ultima! Guardate quante poche vasche ci sono! Con il fiorellino! Ridicola! Ridicola, guarda! Che dite un water gonfiabile? Se penso che Cassandra ti tirerà dietro i soldi, te li sbatterà in testa a sky che cesso di bagno! Beh, nonna, è un cesso! Esatto! È proprio un cesso! E così deve essere! Che cosa sono questi affari? Ho un cestino! E questo che cos'è? Carta igienica! Forma di cuore! Arcobaleno! Che diavoleria! Oh, per fare il bucato! Ma Cassandra mi ha detto che non fa il bucato, non vuole quelle cose in casa! Quindi? Che pochi specchi ci sono! Sì, direi questo! Il water l'ho messo e manca la doccia, ma qua non c'è molta scelta e metterò questa! Hai rovinato tutto, sky è osceno! Oh, sceno! Animalieri con cose brillantinose, oro, arcobaleni, c'è di tutto e di più! Mamma, non importa, non devo mica viverci io! Mettiamo un drink a Cassandra, et voilà! Mamma, potrebbe offendersi! Le stai spargendo drink e bottiglie in ogni stanza! Ma, mi ringrazierò! Non ci posso credere! Allora, una luce in bagno, in bagno come luce, io darei questa! Un tocco sobrio, sky! Viva la sobrietà! Come tappeto! Et voilà, finalmente! Ma non ci sta! Fluttua e basta, quindi niente! E anche qua questo! Eh no, lo mettiamo al centro, se no... Beh, guarda, questa stanza è inguardabile! Vai da un'altra parte, voilà! Ok, qui... Mmm, questa è una stanza vuota, praticamente! Ma dai, Sky! Cioè, vuota, nel senso che non sarà né camera, né niente! Ma sarà solo una stanza così, di passaggio, ecco! In una stanza di passaggio voglio mettere qualcosa per Belinda, visto che lei, beh, suona! Non penso che suoni! Dice che fa la DJ, ma forse non sa neanche suonare! Le metterei un pianoforte, magari in futuro le verrà voglia di suonare, chi lo sa! Facciamo così, un bel lampadario chic e qualche divanetto, sì, direi che ci sta! Per chi vuole sentire Belinda suonare! Ecco qua! Fa cacare Sky, proprio ingombrante, tozzo, brutto! Mettiamo questi? Sei meglio Sky, davvero! Già meglio! Non sono convinta, ma... Ma te ne farai una ragione! Ok, ops, qui mettiamo i fiori, no, così sono brutti, via! Beh dai, sempre queste solite piante! Mettiamo anche di qua una cosa simmetrica, viva la simmetria! E la seduta per Belinda quando suona, quindi cina, sedie... Secondo me cosa le mettiamo? Qualcosa di basso, questo! Oh, che magnifico! È bello Sky, bello! Oh, mamma, finalmente mi hai detto che ho fatto una cosa per bene! Mamma, perché non metti il tuo solito tappeto? Eh già, l'abbiamo messo in ogni stanza, perché non continuare a metterlo ovunque? Bella, bella questa casa, non tornerà mai più a casa da mia mamma! Sky, Sky, è tutta colpa tua! Ok, abbiamo fatto la stanza di Cassandra, la principessa e la Barbie di casa! Il bagno! Osceno, adatto per cacare! Una stanza inutile! E qui io farei la stanza degli ospiti! Una sorta di cabina armadio, ma che funge anche da... Stanza per gli ospiti, facciamo così? Ma Cassandra mi ha detto di non pensare agli altri, quindi... Probabilmente sarebbe la scelta sbagliata! Io devo pensare solo a Cassandra! Quindi, mettiamo armadi! Armadi! Perché lei si sente favolosa! E così deve essere! Quindi, armadi grandi! Per tutte le sue scarpe, borse e chi più ne ha più ne metta! Sono perplessa! Poi, mettiamo anche a lei questo per truccarsi il vanity table! Sono sicura che lo apprezzerà! E poi, Cassandra, vabbè che lei si fa tutte le cose di chirurgia, ma secondo me potrebbe anche allenarsi! Quindi, una bici e questo per correre qui in centro stanza! Penso che lei si tenga in forma! Figurati se quella fa fatica! Va dal chirurgo! Dai retta a me! Toglili! Mamma, non penso sia così pigra! Allora, anche qui il lampadario bellissimo! Da principessa! Poi, allora, ma non ci sono trucchi? Forse sono nel bagno! So proprio di sì! E invece no! Pensavo ci fossero cose bellissime, invece non c'è gran che c'è la piastra! Beh, ma tiene qualcosa questo armadio? No, che cacata! Boh! Ah, ok! Mettiamo qua le cose per i capelli! Piastre! Poi le metterei un profumo! Ok, là non ci sta un bel niente! Fantastico! Un armadio utilissimo! E vai! Non ci sta niente! Perfetto! Ecco qua! L'armadio più inutile che ci sia! Vabbè, posso mettere qui i profumi, no? Ce ne sono così tanti! Poi, una sedia! La sedia per sedersi, ma più che altro un puff, se si deve truccare! Questo buo è enorme! Lo metterei qui! E qui invece mettiamo questo! Favoloso! Semplicemente favoloso! Fa cacare! Troppi colori, non so! Eh, non piacerebbe, ma quella è tutta scemonita! Guarda cosa ti metto qua! Il drink! Mamma, ovunque metti i drink! E mi sono scordata di metterglielo, ops, anche qui! Mamma, Cassandra, non penso sarà contenta! Sì, sarà contenta! Andrà in cerca dei drink! Anzi, qua le metto addirittura la bottiglia! Voilà, nascosta! Chissà se le troverò tutte! Sarà una bella caccia al tesoro! Alcolica, per Cassandra! Ah, nascolica, mamma! Non diciamo sciocchezze! Ma certo, è anascolica! Uno specchio? Mmm, bruttino! Diamole qua uno specchio? Ma sì! Sky, perché non metti il solito tappeto? Giusto, mamma! Ormai c'è in ogni stanza il pezzo forte della casa! E direi che è pronta! C'è tutto! Belinda non tornerà mai più da noi! Mamma, sembri quasi contenta! Più che altro nella nostra casa non c'è spazio! Mentre questa è una villa favolosa! Sono felice per lei! Bisogna essere felici per gli altri ragazzi! Quando hanno più possibilità di noi non dobbiamo essere invidiosi, ma essere felici! Solo questa stanza mi lascia perplessa! Voi cosa fareste? Un altro cesso per Cassandra! Non posso, mamma! Lo vedi che è proprio sull'esterno! E appunto magari gli scappa di andare al bagno quando è fuori! Beh, effettivamente! Ci sta! Un bagno anche al pian terreno! Oh, sempre con sta cacata di lavandino! Mamma, sì! Ormai abbiamo fatto così tutta la casa e continuiamo! Questo è lo stile! Lo stile di Cassandra! La cessa! Non serve mettere la doccia, non penso! Anzi, mettiamo la vasca da bagno qui! E il solito tappeto! Giusto! State imparando ad arredare! Sì, non metterei neanche una mensola! Ho cambiato idea e lascio tutto così! Mamma, sei stata davvero brava! Belinda sarà felice! Un po' meno vostra bisnonna Bernarda! Ma d'altronde non si può accontentare tutti quanti! Vogliamo fare anche qualcosa qui in giardino? Allora, potrei mettere questo! Un cigno! Giusto per bellezza! Summer party! Ok! Ritiro tutto! Questo farà impazzire Belinda! Facciamo anche l'angolo party qui in giardino! Non solo all'ultimo piano! Con il suo DJ set! Lei potrebbe suonare... Mh... Proprio sul Gazzibo? Su questo recinto rosato? Non so come chiamarlo! Però, effettivamente sarebbe un bel palco per lei! Una bella opportunità per farsi vedere! Quindi... Eccola qua! Ah, ma non ci sto! Peccato! Eccolo qua! Il DJ set di Belinda! Mettiamo casse ovunque! Non ci sono microfoni! No, non c'è nessun microfono! Ma vabbè! Sono sicura che Belinda si saprà far sentire! Mh... Perfetto! Ed ora... Anzi, mettiamola di qua la macchina di Cassandra! Ecco qua! Questo è il parcheggio! Qui c'è la macchina di Cassandra! E diamo un motorino a Belinda! Sky, sei impazzita? Quella ha solo qualche giorno di vita! Non può di certo avere la patente! Sono sicura che nessuno le farà storie! È troppo bella per non metterla! Sky, sei rincoglionita! E guardate qui quante feste farà! Summer party! Già la vedo! E allora, già che ci siamo... Guardate cosa faccio! Et voilà! Il drink di Cassandra! Ma mamma, sei la solita! Beh, mettiamo anche questo! Guardate, è adorabile! Allora, questo è il mio progetto! Il mio primo lavoro segreto! Se nonna Bernarda vi chiede qualcosa... Questo l'ho fatto per puro divertimento, ok? Come vi ho detto all'inizio! Ma certo mamma! Con tabballe Sky! Assomiglia a tuo padre Gianni! Questa è la cucina! Con un bancone, non c'è tavolo, non c'è sala da pranzo perché Cassandra è una nuova Barbie! E le Barbie, si sa, non mangiano! Sono fatte di plastica! Così come Cassandra! Questo è un soggiorno d'ingresso! E qua c'è il cesso! E qui abbiamo il parcheggio! Saliamo! Et voilà! Allora, abbiamo la stanza per i vestiti, gli accessori, la stanza di bellezza di Cassandra! Una stanza inutile perché Belinda non sa suonare! Non penso, gira solo i dissi! Un bagno! O sceno! La stanza da vera principessa! Da Cassandra! Saliamo! E questa è la camera di una teenager nata da pochi giorni! Belinda! Ricca! Oh, qui c'è una lampada che brutta messa lì! Chi l'ha messa? Togliamola! E cosa dicevo? La stanza di una teenager! Favolosa! E poi, la piscina con tanto di scivolo e DJ set! Cassandra adorerà tutto questo lusso! E volevo dire, Belinda, mi sono confusa di nome! Comunque, entrambe lo adoreranno! E Angelo se lo farà piacere! Allora che ve ne pare? Ho fatto o no un ottimo lavoro? Certo, mamma! Fa un po' cacare, ma se è per Cassandra va bene! L'importante è che non sia casa nostra! Esatto, Bernie! L'importante è che mi paghi! Vado subito a mostrarle il progetto! Lei è pronta a trasferirsi immediatamente! Fatemi un in bocca al lupo! In bocca al lupo, Sky! In culo alla balena! Si dice così, no? Speriamo che non cacchi!